ragazzi sono al passo pre d'arena è stato ma dura anche fare questa ci ho messo 4 ore 46 minuti sono 79 chilometri siamo ai confini con lucca quest'anno gli ho fatti tutti i passi passano radici cerito laghi fatto alla betone quindi noi abbiamo fatti tutti in più ho fatto anche il mangan insomma e lo stedio dai non sta andando male devo dire che è lunga arrivare qua in cima è lunga 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 sono quasi 30 chilometri di salita più o meno però ci sta dai va bene via adesso torno giù comunque non ci mollo buon vacanze a tutti